A Forlì per conoscere incontro fra le generazioni, progetto che Hauser promuove insieme a 5 scuole del territorio. È un progetto che serve a creare relazioni tra le generazioni, quindi gli anziani e i nipoti. In particolare quest'anno, siccome il tema era i giochi dai nonni ai nipoti, questo si è prestato molto a interviste con i nonni sul tema del gioco, che è un tema sempre molto affascinante e che muove molte emozioni. I materiali, i prodotti hanno messo in evidenza molta freschezza, molta fantasia e anche molta voglia di collaborare. E continueremo anche il prossimo anno con un altro tema altrettanto bello. I bambini hanno chiesto ai nonni di raccontare un po' i giochi che si usavano tanti anni fa. Hanno potuto così fare un confronto con i giochi moderni e hanno capito che in realtà non è importante il tipo di gioco, è importante lo scopo del gioco stesso, cioè quello di farle divertire ma anche di avere un rapporto con gli altri bambini, cosa che loro stessi hanno detto mancare un po' nei giochi moderni. Il ruolo dei volontari è fondamentale per prendersi accordi con gli insegnanti, per fare le attività con i bambini, perché molte cose vengono fatte bambini, insegnanti, genitori e nonni in questo contesto, così come è fondamentale anche tutta l'organizzazione del progetto, perché anche dietro c'è una direzione e una regia non indifferente perché se oggi siamo qui è perché dietro ci sono tanti volontari, tanti insegnanti, tanti bambini che hanno lavorato in questo progetto. Sono anni che noi partecipiamo a questo concorso con un grande piacere, quest'anno il tema appunto sui nonni li ha fatti riscoprire, è un mondo che sembra così lontano e invece è vicinissimo, perché gli stessi giochi che facevano i nonni li fanno ancora loro adesso. Oltretutto i nonni si divertono a fare i giochi dei bambini di oggi, quindi la competizione al videogioco e poi magari si va fuori a fare la passeggiata o a giocare con i tappini, perché abbiamo scoperto una grande ricchezza anche tra i nonni che non sono di queste origini e quindi c'è stato anche un arricchimento nelle classi. L'associazione Hauser è fondamentale, in primo luogo per l'aiuto che danno agli anziani, poi c'è tutto l'aspetto culturale ed è un aspetto estremamente interessante perché vuole mantenere viva la mente degli anziani, questo è molto importante, mantenere vivi gli interessi e nel contempo collegare tali interessi con i giovani e i giovani rispondono e si crea questo interessantissimo scambio fra persone che non sono più giovani e giovanissime.